La prima solitaria, la prima serie solitaria di Carlo, il Montasio, la più alta delle giuglie italiane. Quello questo qua di fronte al canino, quello lì, lo Iofuart, la punta subito dietro, un po' sulla destra il tricorno, poi si vede anche il mangar sulla sinistra, e lo zialopex. E questa è la croce. Adesso diamo una scampanata, la campana in ricordo di Riccardo del Far. Penso che quel dente lì avanti sia la creta da Ip. Troveravamo ieri, e poi gli artitauri qua dietro, il Gross-Clockner e il Gross-Lentiga di Uomo. C'è l'altra splendida cos'è anche il Coglian, si vedono anche le dofane, poi adesso sta imparando un po' di nomi. E' verso la pianura, verato? Non vorrei che buttasse su nuvola dopo, ma scendiamo comunque presto. questo è Maistar Canin, lo faremo un'altra volta, quello lì. E' la via di ascesa, la cresta di qua si scende, ho fatto la via Findeneg, la prima via su cui c'è stata salita, questa montagna di albinistica, con passaggi fino al 2-meno, senza assicurazioni. Non complicata e divertente. Scenderò giù dopo, per non male, di qua, in questa direzione. Stupendo. Giornata bellissima. E la Sua Maestà del Ricordo. Non manca il Fuart proprio qui davanti. E questo qua è proprio l'anno prossimo. Montasio.